Allora, cosa succede a Cremona? A Cremona rendono omaggio alla tigre di Cremona perché le luminarie di Natale saranno artisti parlanti come avevano fatto già a Bologna con tanto di musica, quindi le frasi più belle di Mina la musica e andranno all'asta Nelle varie vie ci sono i testi delle canzoni di Mina e rimarranno fino al suo compleanno, al 25 marzo che sarà anche il mio fra l'altro Pensi che invece sulla facciata del comune c'è il suo faccione C'è il mio faccione oggi Perché un artista chi? Vincenzo Varsiglia Ah ecco, che aveva ritratto anche me fra l'altro Chiedo scusa a Cremona Proietterà questa cosa, ok Ho una comunicazione da Cremona anche il faccione del conte sarà sul comune No, ma veramente? Ah sì, ma è sicuro? Certo che sì, me l'ha detto l'artista voglio dire, dalle 17 alle 20 chissà che impressione farai Per fortuna che mi ha risparmiato nel senso quel punto sarebbe anche obbligatorio il lancio di qualsiasi oggetto Ve lo facciamo conoscere No, 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 grazie Why not? Basta il pensiero Grazie Awww Grazie a tutti